Un caro saluto a voi, un breve video per presentarvi il corso sul Chi delle 9 stelle, che è un metodo astrologico e numerologico orientale, un corso che comincerà a breve, perciò da venerdì 18 febbraio, per sei settimane poi, ogni venerdì dalle 18 alle 20, ci incontreremo in diretta in un gruppo dedicato, un gruppo privato dedicato, laddove poi questo gruppo fungerà da ritrovo continuo tra di noi, scambio di informazioni, ma soprattutto anche esercitazioni sul comprendere un meccanismo che è veramente affascinante, veramente affascinante. Io lo studio da dieci anni, mi sono formato in Olanda, ho fatto proprio un master nel Chi delle 9 stelle, proprio nella la scuola di macrobiotica, perché la macrobiotica, bene o male, svolge tutta la sua funzione di guarigione attraverso il cibo, anche seguendo questo ciclo delle 5 trasformazioni. E venerdì 18 febbraio, nel primo incontro, affronteremo subito il ciclo delle 5 trasformazioni e andremo a vedere anche le 5 trasformazioni, come possiamo vedere anche da questo disegnino, come si distribuiscono i numeri in questo ciclo naturale, un ciclo che possiamo vedere come se fosse un orologio. un orologio. E quando noi abbiamo studiato bene com'è il movimento della natura, a quel punto lì, già dalla seconda settimana, possiamo entrare dentro alla meraviglia del quadrato magico. Come vedete qui, in quadrato magico, vi spiegherò anche il perché poi, ma sono gli stessi numeri che sono qui, praticamente, il 3, il 4 e il 9 che vanno in un'energia che sale, il 2, 5 e l'8 un'energia che tende a scendere ma anche che è trasversale, poi il 6 e il 7 che è un metallo, l'energia del metallo che tende verso la sera e verso l'atuno e l'acqua che tende verso l'inverno. Come vedete anche qui dal quadrato magico, vedete proprio il solito movimento di questi numeri. Noi andremo proprio a studiare i movimenti di questi numeri e lo faremo nella seconda settimana. Perciò quadrato magico e movimento dei numeri dentro la casella, dentro questa casella qui. È molto importante perché di anno in anno un numero scivola nell'altro, perciò un numero va ad occupare la casa di un altro numero. Vedete come cambiano poi via via, strada facendo, no? Determinate informazioni che vanno proprio a fondersi con altre informazioni. Nella terza settimana andiamo proprio subito a studiare tutti gli elementi che hanno a che fare con l'albero e con il fuoco, cioè con quel tipo di, vedete, 3, 4 che fa riferimento alla primavera e il fuoco 9 che fa riferimento proprio all'estate, la massima espansione. Esploreremo questi numeri. Logicamente è proprio un corso formativo, eh? Andiamo proprio a studiare a fondo questi numeri, andiamo a vedere tutte le caratteristiche di questi numeri. Nella quarta settimana andiamo poi a esplorare l'elemento terra con i numeri 2, 5 e 8, come potete vedere qui, 2, 5 e 8. Poi nella quinta settimana gli elementi metallo 6 e 7 e poi acqua 1. E nell'ultima settimana faremo questo grandissimo riepilogo di previsioni per l'anno 2022 a livello collettivo ma anche a livello individuale. Ognuno di noi sarà in grado di sapere bene o male che anno gli aspetta. Sarà veramente un divertimento perché una volta che abbiamo imparato a trovare i numeri, i numeri, che saranno 4 numeri, ricordiamoci, se voi andate a giro nel web troverete chi delle 9 stelle fanno riferimento con 3 numeri, ma qui, come vedete, no? Qui siamo speciali. Qui siamo speciali. I numeri che vengono fuori dalla data di nascita saranno 4. Vi spiegherò anche il perché. Ma vi voglio subito dare un esempio, no? Un esempio per farvi... cioè, se andiamo a vedere qui alla mia sinistra potete vedere praticamente il 6 e il metallo, no? E anche più sull'8. Sono 6, 7, 8, sono quei numeri che hanno a che fare molto con la giustizia, molto con il fatto di mettersi a disposizione dell'altro per riuscire a equilibrare una determinata energia che va proprio in quel senso lì, nel senso del giusto. Perciò il 6, 7, 8 sono proprio i numeri degli avvocati, dei magistrati, della polizia, del soldato, di tutte quelle forze che hanno a che fare con rimettere sempre a posto le regole, eh? Rimettere l'armonia nelle regole. E ora vedete qui, vi faccio vedere un esempio di quello che noi andremo a fare anche per esercitarci durante le settimane, e questo lo faremo nel gruppo dedicato. Come vedete il pool antimafia, eh? Questo è un pool antimafia. Se andiamo a fare i numeri del pool antimafia possiamo vedere fra Giovanni Falcone, Paolo Bersellino, Antonino Caponnetto, Leonardo Guarnotta, Giuseppe Di Lello, che erano veramente le persone che erano lì, che si mettevano, rischiavano la vita per riportare giustizia laddove non c'era, vedete che numeri, eh? Siamo sempre lì, 7577, 7668, 8588, 6566, 6566, una cosa incredibile, inimmaginabile. E l'esercizio che faremo anche noi sarà quello sì di andare a vedere i personaggi famosi e vedere se le caratteristiche corrispondono ai personaggi famosi, ma è anche quello di trovare, fare i numeri a noi stessi, prima di tutto per riuscire anche a comprendere di più noi, ma anche fare i numeri ai nostri familiari, ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri amici, a tutte quelle persone che ci girano intorno, in modo tale da potersi approcciare a loro in maniera sempre e comunque consapevole, consapevoli del fatto che ognuno di noi in qualche maniera è fatto a modo suo. Perciò questo corso io lo faccio per coltivare compassione, coltivare compassione, via via che andiamo avanti nel corso e via via che spero che la compassione in ognuno di noi cresca sempre di più, in modo tale da non arrabbiarsi magari di fronte a quelle situazioni che si vengono a creare. Situazioni che sono energie, sono comunque caratteristiche della solita energia, come abbiamo visto, che si dirama da cinque stazioni, cinque trasformazioni e andremo a studiare bene bene ogni caratteristica di ogni elemento, in modo tale da poter abbinare questa caratteristica dell'elemento ad ogni numero. Tantissime cose da fare, veramente tantissime cose per divertirci, stare insieme 12 ore in 6 settimane e lo faremo con tutta la curiosità che ci contraddistingue perché siamo delle anime speciali e siamo in cerca sempre di qualcosa che ci faccia crescere interiormente e questo io ve lo assicuro che ci farà crescere interiormente, soprattutto in questo momento che abbiamo bisogno di andare a vedere come si muove la natura, come si muove la natura, dobbiamo mettercelo dentro il meccanismo della natura. Per questo io vi invito insomma ad iscrivervi, il costo è veramente bassissimo perché si tratta di 60 euro e in 12 ore staremo insieme praticamente per un mese e mezzo e anche di più perché il gruppo che si verrà a costituire dedicato per questo corso sarà un gruppo sempre attivo da questo punto di vista, ci saranno tante cose da condividere, andremo a vedere anche il Feng Shui in qualche maniera, no? Perciò vedere la nostra casa dove mettere i vari elementi, dove mettere l'elemento del fuoco, l'elemento dell'acqua, l'elemento della terra, ecco, per andare ad armonizzare anche a casa, vi rendete conto? E andremo a vedere, e questo ve lo voglio dire, non voglio che mi sfugga, andremo a vedere la manifestazione di queste energie, mi raccomando, manifestazioni che sono davanti ai nostri occhi in ogni momento. Ogni momento c'è una manifestazione o dell'energia metallo, dell'energia acqua o della terra, dell'albero o del fuoco, che poi si mostrano anche in ognuno di noi. Se avete intenzione di iscrivervi, io veramente ne sarei molto felice, più siamo, più ci divertiamo e più abbiamo modo di interagire e darci mano nello studio, scrivete a corsi yogadaccasa.it, corsi, chiocciola, yogadaccasa.it, oppure chiamate laura al 339915491 in modo tale da poter avere o più informazioni o magari se volete iscrivervi al corso attraverso un pagamento che non sia quello dell'acquisto direttamente sul sito. Che l'acquisto direttamente sul sito sarebbe su www.yogadaccasa.it, andate dentro il sito, cliccate su calendario e corsi e vi verrà proprio la striscia dove poter accedere per pagare. Io vi ringrazio da profondo del cuore, venerdì 18 febbraio partiamo in questo magico mondo di numeri e stelle. Un caro saluto, un abbraccio forte, forte, forte.